e ciò carissimi nardoli e buon salva a tutti e ben trovati di nuovo su hello neighbor atto 2 ragazzi allora siamo bloccati qua dentro a quanto pare cioè qua crollato qualcosa noi da testa siamo stati rapiti a quanto pare e sembra che ora la porta sia sbloccabile esploriamo un po' la zona qua non può andare qui nemmeno però li vedo qua c'era ci sono passati tanti anni ragazzi qui non posso fare niente però posso togliere questo la luce la luce divina chi è? è uscita nella cantina ragazzi e guardate che upgrade che ha fatto raga ma veramente ciò ha fatto di upgrade cioè la casa è enorme è gigantesca poi è tutta strana ma quanto ho capito ragazzi adesso mi va a scappare e c'è già il vicino noi siamo stati intrappolati posso ah posso togliere noi siamo stati oh il binocolo sta comodo per esplorare ok allora vediamo un po' noi adesso siamo stati intrappolati un po' siamo a scappare allora vediamo un po' lì abbiamo un secondo piano qua abbiamo un altro piano ancora lì abbiamo una stanza segreta poi qua abbiamo la solita cucina e vorrei andare a esplorare la zona di sopra e vedere che cosa c'è allora qui abbiamo una tutta alvola si ok ah credo di dover prendere questa valvola però non si può fare aspetta un attimo guardiamo dove va il tubo va qui qua c'è una leva ok sento il mole di acqua ok però si è capito abbiamo trovato tante leve il tubo vedete continua però il tubo sembra tipo continui no c'è il cibo il giorno e il notte sapete cosa facciamo mettiamo la corrente ci serve una torta ragazzi ci serve assolutamente una torta spazzatura 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 secondo me c'è qualcosa abbiamo trovato a casa c'è un tubo che continua ad andare il bagno è chiuso non possiamo sbagliare andiamo a guardare andiamo a vedere perché aspetti forse qualcosa ci uh la torcia perfetta questa è utilissima uh la chiave inglese l'ho trovato andiamo a guardare perché adesso c'è molto tanto non ci ha visto dovremmo guardare vabbè meglio cosiddermi ragione infatti ok ok ragazzi qua possiamo aprire credo lì possiamo andare al piano di sopra vediamo un po' di certo vediamo un po' di cercare valvole ragazzi e la ce n'è una eccola abbiamo trovato l'ultima valvola credo perché tu mi non ho più visti quindi dovrebbe essere l'ultima fatemi vedere esatto il mio piano ha funzionato ok ora prendiamo questa e cosa ci facciamo però comunque questa ragazzi credo che dobbiamo aprire tutte le valvole intanto andiamo a esplorare il piano di sopra troppe cose da esplorare esploriamo il piano di sopra vediamo se è ferro ok qua abbiamo delle scale che ci portano al piano di sopra poi abbiamo ancora tante scaccia cioè ragazzi non sa via tanto ma eccoci arrivato e guardate chi c'è uh lo scuola non posso nasconderci quindi credo che un vicino ci possa raggiungere la partecipazione qua possiamo uscire si qui no qua è chiuso super ha chiuso qua abbiamo qualcosa fatevi vedere no qua raccomandante oh ragazzi se veramente questa serie di violoneavor vi piace perché a me sta divertendo un casino mettete un bel pollice in su perché questo gioco mi sta divertendo tanto credo che dobbiamo arrivare da quell'altra porta vedete che c'è un'altra porta mi sa che dobbiamo togliere l'acqua da scuola in modo da poter passare ok quindi allora andiamo qui e qui perfetto e io qua ho visto già una valvole esatto ok ok no stiamo facendo parkour sui studi e proviamo a attivare giriamo ok ok acqua che scorre buono questo per me se lo non aiuti allora lui è in casa qua è dietro di noi raga corri 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 dobbiamo avere il tempo di segretto a scala ok perfetto uh vabbè l'abbiamo distratto per un po' mi fa sfondare qui possiamo nasconderci perfetto ah discord mi stanno chiamando su discord va chiuso peccato ci ha preso raga però ho capito forse dobbiamo esplorare il piano lì sopra perché non ci siamo ancora andati e questo potrebbe essere un aiuto non andare là dietro in qualche modo forse rompendo una finestra forse potrebbe essere un'idea lasciamo il binocchio per prendere un'idea ok si stiamo rompendo basta e vabbè ma se non passi c'è mi sei impedito frate non è colpa mia ora ti lo ho richiuso di noi pronti pronti ben giardino vabbè deve essere oh vabbè ok perfetto non ci posso non ci posso non ci posso aprire perfetto poi c'è il piano lì sopra andiamo a vedere il piano lì sopra ok ok si sa che dobbiamo a mettere il tappo con la valvola ragazzi allora ok è una successa vuol dire che manca acqua manca dell'acqua allora dove c'è acqua in più dallo squalo perfetto allora dobbiamo andare dallo squalo ma come facciamo a togliere l'acqua lo squalo e metterla qui dovrebbe essere intrigante ok ragazzi dopo un po' di ragionamenti guardate eccola là quella è quella dello squalo e noi adesso con due scatole definitivamente possiamo fare colpi e riuscirà a baggarci per passare qui anzi credo che sia l'unica cosa che fare ecco e rifarci tutto allora aspettate partiamo qua cerco di non è pacchiare perché in realtà non dovresti farlo per forza in modo per riuscire a fare l'acqua ok la valvola stiamo qua perfetto e adesso gira esatto e se tutto è andato bene abbiamo sbloccato la stanza dello squalo quindi possiamo andare a vedere ehm ok mi sembra fai vediamo a terra il tambale potrebbero inviarci anzi ci spigiano ok esatto guardate abbiamo sbloccato la stanza qui c'è una pala e qui abbiamo sbloccato la stanza quindi possiamo adesso aprire credo quest'altra porta che in teoria ci sblocca l'accesso a quella stanza lì e se noi andiamo e ora in teoria noi andiamo in giardini ho capito che cosa dobbiamo fare perché c'è una zona di terra in giardini lo posso sicuramente toccarla ok ci siamo riusciti da passare esatto adesso io faccio il fatto io faccio il gatto e il gatto e il gatto no ok ok per un attimo per un attimo aspetta devo disattivare la trappola che c'è lì da qui sopra vai tu adesso per su su adesso possiamo andare a dire la casa delle bambole perché questa è una chiave che riguarda un po' quella di bambole infatti ora sblocchiamo credo che questa sia la porta del bagno e questo cos'è? ah forse è questa potrebbe essere? siiii il gatto il gatto forse adesso il gatto il gatto il gatto questo è un po' girare l'acqua per vedere non credo non non no potete vedere non serve sicuramente a niente quindi credo poco che quindi credo poco che è proprio così via però c'è ancora una stanza che non mi ha segnato la casa parte il bagno che anche il bagno potremmo andare a vedere il bagno adesso perché se riesco a fare questo parkour dannato potrei andare a vedere cosa si fa questo attenzione oh quante ma quanto è impossibile ragazzi devo sottascinare ah termosifono fai oooook e dai io sto rompendo un po' i cosiddetti dai oooook oooook ma che cosa è il gatto è un po' paziente 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 questo gioco ci vuole paziente se non ce l'hai non puoi giocarlo salta ok salta ok Ok, questa non serve una torcia, questa non serve una torcia, ah ce l'abbiamo tutta, vabbè, doppia torcia, double torcia, porco, e mi ha preso, mi ha preso, mi ha preso, ragazzi. Siamo? Cosa è? Lab, lab, yay, passiamo un altro yuk, trepeze, yay, ce l'ho proprio detto, insomma, senta che devo salire qua sopra, che suoni creepy, ragazzi. Wow, la casa è ingrandita però, erano una famiglia felice, tavolo palpiato. Questa conferma la mia storia che la moglie è già morta, potrebbe essere morta. Questa è un picco, là c'è qualcosa, non so se siamo noi, da grande. Questa è una bambina? Suoni creepy, raga. E' per cazzo, la bambina è morta, buona. Questa, dicevo ragazzi, è il bagno e questa sono le ultime istanze che non abbiamo guardato, abbiamo guardato, facciamo così, divertito. Tac, ora lui ci andrà a controllare, quello è il bagno, uno minimo del, che? Del Lego, credo. Però è un Lego, sì sì. Aspetta via, si schierà. Aspetta, sta venendo, sta venendo. Chi è? Non mi riscorda, non mi riscorda. Alla vicino, ragazzi, è un secchione. Vai in giardino? Staccato la fornita due volte. Non dare in bagno un po' di meraviglia. Sta uscendo. Mi ha visto, però, io l'ho visto. Mi pregono a farmi il giro. Mi pregono a farmi. Le mani. Ho fatto il giro, non ci credo. Vai. Vediamo. Nassimo, per evitarci due. Ok, perfetto. Ci siamo, nascosti dentro la canta. Cerca un po' di favore. Un po' di favore. Un po' di favore. No, non ce l'ho qua. Non lo sa. Cazzo adesso l'ho lanciato tutto. Non ho più la torcia, non ho più niente. Cazzo la torcia ce l'ho di nuovo. eh basta è sorrotto eh, è sorrotto, è sorrotto dai basta, basta? perché voglio scappare da sto posto orrendo come si basato? trovo una chiave per il portone? è troppo veloce ragazzi, troppo veloce, troppo veloce che sfiga fortuna ragazzi frega di me se non c'è lì guarda te lo vedo ah ragazzi va, trampa e lo sapevo, lo sapevo da fare un canello eh mi sono spaventato abbastanza non mi nascondo che mi sono spaventato abbastanza però mi sono anche rotto, ora sono furioso, sono furioso basta mi sono rotto le scatole mi sono rotto mi sono rotto scusate, prima sto qua, vuole che non li andiamo in casa basta dai, ero quasi in bagno ero quasi arrivato al bagno raga eh, poi mi altero il cervellino perché veramente, cioè disattivo più vai eh, ora voglio vedere come fai a vederlo ecco il bagno ecco il bagno siamo distratto ragazzi distratto ma ci ha visto, e non è buono ecco il bagno pregono trappole si per me le ho già disattivate tutte io questo è un piede di porco è un omino del lego si con un piede di porco intanto ragazzi, non so se l'avete visto, ma noi possiamo scappare anche da un... ah ah eh, ci stavo andando addosso però io so cosa dobbiamo fare ragazzi faccio il giro lungo così non mi prende ah, ma non mi prende però ho capito cosa dobbiamo fare ah, me l'hai detto il giuberto ora me l'ha fatto eh giuberto brutto mi ha dato il faustino non so come affrontarlo però il giuberto scadatta è lì ma non mi prende 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 vabbè scendiamo ragazzi perchè questa è sfiga questa è sfiga raga questa è sfiga anche perchè adesso c'è un'altra curina eh allora lui può correre e sono agile mi piace dov'è però vi devo vedere dove mi... come mi hai visto voglio sapere guarda lui tecnicamente però è su dobbiamo si guarda prima che arrivi giù guarda non c'è il tempo a creare un bambino sce Alright mettiamo qua fatto perfetto adesso se chiama la riproduzione nel bagno dovrebbe essere scala reale no? infatti ed è colpire il porco Oh no ma tutto giù aperto, mi dispiace Adesso io Qua Sì Ragazzi Addio Addio frate Addio mi dispiace Sì Ho fatto, ho scappato Sì Sì ragazzi Sì Abbiamo finito l'8-2 Cosa vi devo dire ragazzi È stata una cavolata Atto 3 No, questo è il prossimo episodio Quindi ragazzi Se vi devo lasciare un bel pollicione su Per continuare la serie di UnNable Che è molto divertente come gioco Io che cosa vi posso dire Spera scrivervi se vi è piaciuto Iscrivetevi al mio canale Anche quello di Instagram Vi lascio il link sotto in descrizione E noi ci vediamo Prossimo video Salvo perché Salva, salvia Ok, salvate Perfetto Quindi ragazzi Se vi devo lasciare un bel pollicione su E io cosa posso dire Ciao cari seminardoli Ciao cari Ciao cari Ciao cari Ciao cari Ciao cari